Si aggira intorno a 518 euro a studente la spesa media per le famiglie riguardo il corredo scolastico. La stima è nazionale ed è da parte di Federconsumatori. Con la fine del periodo estivo partono dunque i preparativi anche per l'anno scolastico. Libri, astucci, diari, zaini, quaderni e penne, le famiglie iniziano a comprare già da ora i prodotti e i materiali per la scuola spendendo poco per volta. Secondo l'Osservatorio Nazionale di Federconsumatori ci sarà un aumento medio dello 0,8% per la spesa scolastica rispetto al 2015. Complessivamente la spesa passerà da 514 euro a 518. I prezzi sono abbastanza stabili per i libri. Ad aumentare maggiormente saranno invece zaini, tracolle, astucci e tutto il materiale di corredo scolastico. Una voce dunque che come ogni anno mette a dura prova i bilanci delle famiglie.